test di registrazione in full hd dalla camera posteriore del meizu m3 abbiamo un sensore da 13 megapixel di manifattura sony e proviamo subito gli adattamenti ai vari cambiamenti di luce intanto abbiamo il sole qui a fine fine ottobre bellissima questa cosa poi proviamo anche uno zoom digitale fino a 4 per quella dell'immagine non eccellente ma comunque più che buona tanto ci spostiamo per trovare anche la stabilizzazione proviamo mettere a fuoco più da vicino il secondo tentativo ce l'abbiamo fatta come vedete questo video è stato registrato da meizu m3 grazie grazie grazie